Ben ritrovati, l'obiettivo di questa lezione, forse due poi vediamo, è quello di esplorare alcune possibilità legate a jQuery e lo spostamento, lo scroll automatico all'interno di un documento e anche con qualche effetto. Quella che vedete è una pagina che contiene in realtà molte fotografie. Ho realizzato un piccolo e semplicissimo motorino di ricerca che permette, inserite alcune lettere o il nome intero dell'animale la cui fotografia si vuole vedere, fa questo. Ad esempio, ce n'è una che riguarda un cervo e quindi posso scrivere in questa casellina di ricerca C o cervo per intero, poi fare clic sul bottone trova o anche premere semplicemente l'invio. E quello che succede è questo. Automaticamente il documento scrolla fino alla posizione corretta e mostra la fotografia bersaglio con un piccolo effetto di slide. Ecco la paginetta nel suo stato iniziale, è molto semplice, mettete come al solito qua il riferimento alla libreria jQuery, nel body il classicissimo campo di testo, casella di testo, l'id e trova ed è importante perché poi ci servirà per estrarre il contenuto della casella stessa e a fianco il bottone con l'etichetta trova, sotto l'elenco delle immagini. Ovviamente createvi una cartelletta per non fare troppo confusione e pescatele da lì. Per la ricerca ho deciso di basarmi sull'id. In una situazione un pochino più realistica questa griglia di immagini, questo elenco di immagini potrebbe essere prodotto in una pagina PHP leggendo i dati da un database. Aprendo la pagina si nota che se l'immagine è un po' grossa l'effetto non è tra i migliori, quindi vedremo tra pochi secondi di applicare uno stile che fissa le dimensioni massime dell'immagine. Poi, se scorro la pagina, il bottone trova e la casella di testo spariscono e non è più possibile quindi comandare altre ricerche dopo la prima, almeno in modo semplice. Quindi appliceremo anche a questi due elementi delle regole di stile in modo da fissarne la posizione qui nell'angolo in alto a sinistra. Ed ecco qua che ho aggiunto un blocco style dove mi sono immaginato due classi, una che ho chiamato immagine, per le immagini ovviamente, dove fisso larghezza e altezza, e ho aggiunto anche un bordo di spessore 2, blu, solido, tratto quindi continuo. Trova invece la classe che andrò ad applicare al bottone e alla casella di testo. Per mantenerli fissi nella loro posizione, aggiungo la proprietà position con il valore fixed appunto. E in modo che si colgano a colpo d'occhio, anche con un colore più vivo, giallo per lo sfondo. Chiaro che se vi trovate in difficoltà nel capire queste cose, è meglio che prima vi guardiate la mia playlist su CSS, almeno le basi. Applico poi la classe trova prima la casella di testo e poi il bottone. Ci siamo quasi. Dico quasi perché se non andiamo, intanto aggiorno la pagina, a specificare un offset per gli elementi che ho bloccato con la position fixed, vedete che si allineano in automatico sulla sinistra. Quindi andremo a specificare un offset per il bottone che deve apparire invece un pochino alla destra della casella. Aggiungo quindi una regola in line, direttamente nel tag button. Style, left, proviamo con 170 pixel e vediamo se va bene. Torno sulla pagina e l'aggiorno. Beh sì, direi che va bene. Direte cosa cambia? È molto. guardate cosa succede, o meglio cosa non succede se scrollo la pagina. I bottoni rimangono lì, piccola magia. e adesso sfruttiamo il jQuery per una cosa piuttosto interessante. Immaginate una situazione con decine o addirittura centinaia di immagini. Magari non grandi tutte come quelle che sto usando io, perché altrimenti il caricamento della pagina diventerebbe probabilmente una pena. ora dovrei, una per una, andare ad assegnare la classe immagini. Certo, sotto l'ipotesi che questo elenco è stato generato da codici PHP, lo posso fare con un ciclo while che legge il record alla tabella, man mano che creo i blocchi MG aggiungo anche la classe. Però in questa situazione in cui mi ritrovo ancora da assegnare la classe ai vari tag MG lo posso fare in un colpo solo usando una sola istruzione jQuery. Guardate quanto è semplice. Blocco script lo metto in fondo come al solito, appena prima della chiusura del body, per avere la certezza che qualunque elemento io dovessi agganciare ed elaborare con i comandi jQuery, quegli elementi stessi saranno già stati sicuramente generati sulla pagina. Con un classicissimo, ormai posso dire così, selettore di tag, dico prendi l'insieme di tutti gli MG che si trovano su questa pagina, lo posso fare almeno, stante così come è ora la struttura, e su ciascuno degli elementi selezionati, add class, aggiungi la classe immagine. quindi è come se io a questo punto avessi scritto qua class uguale virgolette immagine, class uguale virgolette immagine solo che lo fa lui in un lampo. Come effetto collaterale, non certo sgradevole, la struttura HTML rimane bella pulita e poi un domani è facilissimo andare a modificare eventualmente la classe, semplicemente cambiando il suo nome qui o aggiungendo una seconda classe. Ho quindi guadagnato non solo in chiarezza della struttura, ma anche in flessibilità e in facilità di manutenzione. Salvo la pagina e vado a ricaricarla, dovrei vedere un ridimensionamento dell'immagine ecco qui. Vi sto nascondendo un piccolo problema, perché se l'immagine originale non rispetta più o meno le proporzioni del 1280x720 potrei ottenere delle immagini un po' troppo distorte, ma quello è un altro problema. Intanto che sono qui, preparo anche almeno lo scheletro vuoto della funzione, che richiamerò quando qualcuno farà clicca sul bottone trova o premerai invio sulla casella di testo, con il pattern di ricerca una function prova, e che prova? Trova, trova, per il momento senza parametri, poi vediamo, così per il bottone associo la funzione semplicemente aggiungendo l'attributo onclick, l'evento onclick e comandando su di esso il richiamo di trova. Per la casella di testo invece voglio provare a mostrare come sia possibile associare programmaticamente un evento, in particolare quello che intercetta la pressione del tasto, keypress. Prima di tutto aggancio tramite l'ID, perché devo essere preciso il massimo, voglio applicare questo gestore soltanto alla casella di testo. Poi JQuery offre una serie di metodi che corrispondono in pratica agli eventi che si possono associare a un qualsiasi elemento, tra cui il keypress. Ora io ho disposto su più righe per facilitare la lettura, ma in pratica io dovrei indicare come parametro, adesso sto un attimino raddoppiando le parentesi, poi le tolgo, dovrei specificare come parametro al keypress che cosa? La funzione da richiamare quando scatta, quando si verifica quell'evento lì. Io ho preferito andare a capo, aprire la parentesi qui, che poi ho chiuso qui. Questo mi permette poi di scrivere in modo molto leggibile la funzione. La funzione, come spesso capita con JQuery, è espressa in forma anonima, cioè neanche la vado a scrivere esternamente, neppure le assegno un nome, tanto la cosa che mi interessa è il codice che esegue. Quindi function, info, questo info è il blocco di informazioni, in pratica un oggetto che tra le altre cose contiene il codice numerico del tasto premuto. A questo ovviamente pensa tutto in automatico il JQuery e JavaScript. Infatti internamente vado a controllare se info.which, cioè which quale, quale tasto, mi dà il codice numerico e qui dobbiamo ricordarci che l'invio, l'enter, ha come codifica il 13, così come la capo a codifica 10, il line feed. Se, questo vuol dire, se è stato premuto il tasto enter, allora richiama la funzione trova. Vediamo di rendere questa cosa un pochino evidente con un semplice alert. Alert, ciao, senza tanta fantasia, salvo. Poi richiamo la pagina che ovviamente prima ricarico. Adesso facendo clic su trova, se non ho commesso errori durante la dettatura è più facile commetterne, trova, ciao. Quindi questo era facile aspettarselo perché l'onclick è facile da capire. Un po' meno, vediamo un po'. Allora, sono sulla casellina, premo il tasto invio e ciao, come prima. Anche se scrivo qualche cosina ovviamente. Ecco qui. ok sono